Tutti dicono che sono un po' matto per le auto da corsa. Sì, forse hanno ragione. E vincerò quella 500 AM. Sono qui per sfatare il mito per cui donna il volante pericolo costante. La mia primissima ecografia. Ho fisico, occhi e riflessi per fare il pilota. Dovete scegliere me perché sono romagnolo. Mettetemi alla prova. Io sono pronto. Io sono pronto. Mettetemi alla prova. Scegliete me.